Fanno sta facendo il massimo per aiutare chi ne ha bisogno, così l'assessora Welfare Dimitri Tinti che fa un bilancio delle richieste pervenute. Sono 300 i nuclei familiari a cui verranno erogati i contributi per il sostegno al pagamento degli affitti, tra quelli che hanno fatto domanda al bando ordinario scaduto lo scorso mese di settembre. Rispetto all'anno precedente sono 129 le famiglie in più ad essere sostenute, segno, ha detto l'assessore, che ci troviamo di fronte a una crisi crescente. I fondi sono ripartiti dalla regione Marche e per il comune di Fanno quest'anno ammontano a 183 mila euro. I beneficiari sono stati divisi in diverse fasce e quali sono i contributi previsti? Le due fasce sono fasce Isee, che la prima, la fascia A, 200 domande fino a circa 6 mila euro e poi la fascia B, 100 domande fino a circa 12 mila euro. I contributi variano da un minimo di 280 fino a un massimo di 770 circa. Quando e in che modo verranno erogati? Sì, purtroppo non siamo riusciti a derogare questi contributi a fine anno perché la regione ci ha trasferito i fondi poco prima di Natale, quindi non c'erano più i tempi tecnici. Dobbiamo aspettare l'approvazione in consiglio comunale che avverrà entro febbraio del nuovo bilancio e poi si predispongono gli atti. Le modalità sono quelle del accredito diretto nel conto corrente indicato da coloro che hanno fatto richiesta. L'assessore poi ha fatto chiarezza sulle accuse nerenti all'ipotetica disponibilità del comune di Fano di alloggi popolari non ancora assegnati. Al di là dei numeri riportati in modo pretestuoso, ha detto Tinti, sono circa 600 quelli occupati a cui se ne aggiungono 5 già pronti. Infine, altri 17 saranno disponibili dopo i lavori programmati e finanziati da fondi ERAP e da fondi regionali. A fronte di 60 domande nuove, poco più di una decina in più rispetto all'anno prima, ma devo dire che abbiamo dato un buon servizio con il FabLab e poi anche lì i tempi poi saranno quelli dell'approvazione della gradatoria con le integrazioni e le osservazioni che chiaramente tutti coloro che hanno fatto richiesta possono presentare. Stiamo invece impegnati fortemente per incrementare il patrimonio di edilizia sociale perché fanno davvero a bisogno di garantire a tutti il diritto fondamentale della casa. Grazie. Grazie.